Sei categorie, quattro finali e tre vittorie, insomma DLF è assoluto protagonista di questo Pulcino d'Oro, ve l'aspettavate? Allora diciamo che ce l'aspettavamo perché le squadre che abbiamo lì da noi a scuola calcio sapevamo già che abbiamo lavorato bene quest'anno e già gruppi in cui io sono venuto erano già abbastanza competitivi, l'abbiamo migliorato quest'anno e sapevamo sicuramente che avremo fatto bene quindi non si aspettavamo proprio tutti questi primi posti però insomma sapevamo che potevamo stare lì sulle prime classificate Un torneo importante, insomma squadre da tutta la provincia di Roma anche dalla capitale molto quotata come l'Urbe Tevere come è stato costruito insomma questo successo al Pulcino d'Oro? DLF è inutile sottolinearlo, è una grande tradizione di settore giovanile alle spalle Assolutamente sì, praticamente abbiamo giocato anche con squadre come l'Urbe Tevere come dicevi che abbiamo vinto specialmente col gruppo 2006 ci siamo già incontrati varie volte quest'anno quindi abbiamo sempre fatto bene e l'abbiamo anche come si dice già eliminato da varie competizioni Noi stiamo cercando di fare della scuola calcio un punto forte perché come mi diceva un amico la scuola calcio sono le fondamenta di un settore giovanile quindi noi è qui che stiamo puntando anche perché anche la società sta cercando comunque di investire su questa cosa si è preso carico di questa cosa stiamo investendo anche con figure importanti a livello tecnico che è responsabile tecnico della scuola calcio quest'anno verrà fuori, verrà da Roma che ha un passato importante un curriculum importantissimo perché 14 anni di Lazio, 4 anni di Frosinone insomma stiamo parlando di una persona che è massica calcio come si dice a livello giovanile Quindi l'obiettivo per questa stagione ormai alle porte qual è? Allora l'obiettivo sicuramente è di incrementare i numeri Sicuramente continueremo a fare una programmazione come abbiamo fatto già quest'anno come fossimo una scuola calcio dell'It perché quest'anno abbiamo fatto anche nonostante non siamo riconosciuti ma ci siamo comportati uguali abbiamo avuto un psicologo dentro abbiamo fatto degli incontri nutrizionista e continueremo su questa cosa perché è una cosa fondamentale e poi con l'avvento insomma del nuovo responsabile tecnico riusciremo sicuramente a far crescere quasi a livello professionale la nostra scuola calcio